Buona domenica a tutti. Scusate, forse c'è un problema di collegamento. Cari amici, buongiorno, buona domenica a tutti. Ancora ci rivediamo per un altro appuntamento. Spero che stiate tutti bene, che questo tempo sia stato un tempo di benedizione ancora per voi. Prima di iniziare questa meditazione, questa mattina, vorrei ringraziare tutti coloro che hanno seguito un po' la diretta della volta scorsa. Ho visto durante la settimana che molti hanno visualizzato e hanno seguito la registrazione della volta scorsa. Voglio ringraziare tutti quanti voi per l'interesse, anche per i commenti, per aver seguito ancora il tema. E questa domenica ancora vorrei in qualche modo ricollegarmi a ciò che è stato detto, a quello sul quale ci siamo soffermati nelle scorse settimane. Questa mattina vorrei leggere un brano nel Vangelo di Luca, al capitolo 13, che vorrei ricollegarlo in un certo qual modo a ciò che abbiamo discusso nelle scorse settimane. E dice così la scrittura, disse ancora questa parabola, un tale aveva un fico piantato nella sua vigna, andò a cercarvi del frutto e non ne trovò. Disse dunque al vignaiolo, ecco, sono ormai tre anni che vengo a cercare frutto da questo fico e non ne trovo. Taglialo, perché sta lì a fruttare ancora il terreno, ma l'altro gli rispose, signore, lascialo ancora quest'anno, gli zapperò intorno e gli metterò del concime. Forse darà frutto in avvenire, se no lo taglierai. Questa è una storia, diciamo, collegata un po' ai racconti precedenti di questo capitolo, che parla un po' dell'urgenza del ravvedimento, ma anche ci parla della necessità di fare qualcosa per poter avere e vedere anche del frutto. Se vi ricordate, la volta scorsa abbiamo parlato di Abramo, che dovette fare anche delle scelte importanti, delle decisioni importanti, perché potesse vedere l'adempimento delle promesse e delle parole che Dio gli aveva rivelato. Qui siamo di fronte ad una storia molto semplice, una parabola. D'altra parte Gesù parlava anche in modo molto semplice, le parabole sono il modo, la modalità, lo strumento più facile per poter spiegare dei concetti, anche a volte complessi. Però Gesù utilizzava proprio la parabola per arrivare al cuore delle persone. E qui siamo di fronte ad una tematica che ci sta a cuore, ci dovrebbe stare a cuore, ed è quella del tempo che Dio ci dà, dello spazio del tempo che Dio accorda all'uomo, ed è per l'uomo un'occasione per convertirsi. Quando parlo di conversione, non voglio limitare solo il concetto alla conversione vera e propria di cui noi conosciamo benissimo il significato, ma anche la necessità di fare una scelta, perché la conversione comunque è una nostra risposta a Dio, quindi è comunque poi una scelta dietro l'invito che Dio ci fa, però è qualcosa che dobbiamo poi operare. è una scelta che poi si vede nelle azioni di tutti i giorni, di tutta la nostra vita. Quindi la parabola ha a che fare anche con delle azioni, con delle decisioni, e come ho detto già da tempo, questo è tempo di decidere, tempo di scelte, tempo di indirizzarci verso l'orizzonte che Dio ha tracciato davanti a noi. Ed ognuno di noi, ognuno di voi che ascolta, ha un orizzonte, deve avere un orizzonte e deve avere un obiettivo. Quindi il tema centrale però di questa parabola è il rabbedimento, dove il concetto, la parola rabbedimento, non è soltanto il pentirsi, ma anche proprio un cambiamento. E qui veniamo sempre alla questione molto pratica, il rabbedimento non è solo una cosa mentale o ideale, ma è anche un modo di fare le cose, un modo di vivere. E vediamo anche come in questa storia Dio si prende cura di quello che è suo, Dio è attento, è Dio attento alle nostre scelte, Dio attento alle nostre decisioni, alle direzioni che prendiamo, Dio si prende cura di noi. Non dobbiamo mai pensare che sia lontano da noi, ma come dire, si prende cura di noi e si aspetta anche che quest'uomo faccia, come dire, risponda a questo amore. Due cose che vorrei farvi notare subito nel racconto è che vi sono due figure, una prima figura è la vigna, ci viene detto che c'è una vigna all'interno della quale c'è un fico. Quindi sono due alberi, due cose un po' diverse, due aspetti diversi. E la vigna nel linguaggio scritturale, biblico, se volete, rappresenta Israele, il popolo, l'istituzione, la sua storia, tutto quello che lui è stato, il suo sistema. Noi potremmo oggi, a distanza di tempo, valutare un po' tutta questa loro storia, la storia di Israele e vedere in esso un sistema, qui voglio soffermarmi qualche minuto, un sistema religioso e che rappresenta, in qualche modo, incarna, impersonifica i sistemi religiosi di tutti i tempi, cioè come poi andiamo a vivere la nostra spiritualità. E una cosa che è interessante da notare, il termine religione, almeno una delle accezioni di questo termine, un significato di questo termine, che viene dal latino, che significa proprio legare, già è una connotazione, è un'indicazione, a mio avviso, un po' negativa, no? Quando parliamo di religione stiamo parlando di qualcosa che lega, in particolare riferimento al valore vincolante degli obblighi e dei divieti sacrificali, cioè all'osservanza di certi obblighi e a certi divieti, quindi la religione è anche un complesso di tutto quello che noi crediamo, dei riti che legano un individuo ad un gruppo umano. Quindi non sempre il concetto di religione è positivo, in questo senso se noi pensiamo che è qualcosa che ci lega, è qualcosa che lega, è qualcosa che dà obblighi e dà divieti, già vediamo che l'aspetto, il sistema religioso, il sistema, quindi questo meccanismo, questa macchina che si mette in movimento, è qualcosa che lega le persone. E all'interno di questo sistema religioso, quindi la vigna di cui abbiamo parlato, troviamo anche poi questo fico, questo alberello, questa pianta che è tipica del Mediterraneo, che conosciamo molto bene dai frutti gustosissimi, e questo fico che è all'interno di questa vigna. Come dire, c'è il sistema, c'è l'insieme, questa macchina che stritola, che lega, che obbliga, che vieta, che dà una serie di norme, e poi c'è il fico, l'individuo, il singolo, che in questo contesto religioso paga il pegno, che in questo contesto, in questo sistema religioso, paga il pegno, perché in qualche modo viene bloccato, viene legato, viene impossibilitato nella sua crescita. E questa è una cosa molto grave. E' una cosa molto grave perché Luca, che è lo scrittore di questo Vangelo, Luca vuole, come dire, attaccare frontalmente questo sistema, e vuole depurare il messaggio cristiano da ogni riferimento al sistema giudaico. E' come se stessi dicendo, non guardate più se volete crescere, se volete andare avanti, se vogliamo abbracciare Dio e conoscere Dio, dobbiamo sdlegarci. Quindi il contrario della religione, c'è legare, religere, questo è il termine. Dobbiamo sdlegarci da un sistema. Ciò non vuol dire che nel cristianessimo non ci siano delle regole, ma in tutte le società, in tutte le comunità, in tutti gli agglomerati umani ci sono delle regole che regolano la buona riuscita, il buon andamento delle cose. Ma quando parlo di sistema religioso parlo di qualcosa che va quasi a plagiare l'individuo. Sapete, il plagio è qualcosa di molto serio che accade spesso nei sistemi religiosi. Le persone vengono plagiate. Cioè la loro mente, i loro pensieri, vengono plasmati sul pensiero di altri, vengono guidati come se fossero delle macchine, vengono portate dove vogliono altri, quasi convinti, con un'azione costante, moderata anche, vengono convinti a fare qualcosa che magari non vorrebbero fare. Il plagio era un reato, fino a qualche tempo fa anche in Italia, poi è stato abolito e qualcuno ha pensato e sta pensando di rintrodurlo. Ma il problema più grave, il problema più serio è che le persone vengono condizionate nel loro modo di pensare, nel loro modo di vivere, vengono condizionate a fare qualcosa che non vorrebbero. Quindi il sistema religioso è molto negativo e il singolo, il figo, così come è rappresentato nella parabola, il figo nel sistema religioso è stritolato, è condizionato, è bloccato da questo sistema che vive intorno a lui e la sua crescita ne viene impedita. Luca vuole in qualche modo attaccare questo sistema e lo fa attraverso questa parabola. Ci viene detto che in qualche modo Dio, come abbiamo detto prima, che è il padrone, colui che è il proprietario della vigna, va a cercare in questo figo, va a cercare del frutto e non lo trova. è arrivato il momento di fare una verifica, è arrivato il momento in cui tutti noi dobbiamo in qualche modo dare conto, fare un punto, il punto della situazione. E quindi va a cercare del frutto in questo figo ma non trova, non trova nulla, non trova quello che stava cercando. L'uomo è sempre al centro dell'interesse di Dio, anche se molto spesso e nella nostra società non è così, non si pensa in questa direzione, non è questo il pensiero dominante della società di oggi, ma noi siamo al centro dell'interesse di Dio. Dio viene incontro e viene a cercare il frutto, viene a cercare qualcosa da noi, vuole verificare che le condizioni del nostro cuore, le condizioni della nostra vita e della nostra relazione con Lui ci siano e siano anche fruttuose. Cerca il frutto e che frutto può cercare Dio dall'uomo se non un cuore puro, un cuore rinnovato, una volontà anche rinnovata o una devozione, un servizio a Dio, cioè quello che Dio cerca da noi non sono cose impossibili, ma cose che sono in linea con l'opera che Lui fa dentro la vita di ognuno di noi. Quindi viene a cercare il frutto e questo frutto non lo trova. E poi fa, come dire, una riflessione, il proprietario di questa vigna di fronte a questo albero che è lì piantato insieme alla vigna e fa una riflessione, dice che da tre anni non dà frutto. Quindi c'è un periodo ha fatto una valutazione della cosa con un certo periodo, cioè non è una valutazione affrettata. Dio valuta bene le cose, la sua valutazione non è una valutazione affrettata. Ha preso tre anni di tempo, ha osservato questo fenomeno e alla fine ha osservato che il fico non dà frutto. è sterile, è improduttivo, è in una condizione in cui è inutile stare lì. Ecco, questa era la condizione di Israele, del sistema. Questa era la condizione del popolo, di una nazione e soprattutto del popolo di Dio. Era sterile, improduttivo, nonostante avesse avuto tante belle esperienze, una grande storia millenaria, era improduttiva. E la cosa è molto seria. La nostra vita non è soltanto una vita privata. Cioè, mi spiego, Israele era improduttivo, ma rese improduttivi anche tutti i popoli e privò i popoli e le nazioni della grazia di Dio. Israele doveva essere la porta attraverso la quale Dio doveva evangelizzare il mondo. Ma poi non fu così. fu improduttivo, fu improduttivo e privò altri di questa grazia. Rendeva dannoso anche il suolo in cui questo fico era piantato. Il fico rendeva il suolo povero. Il suolo intorno a lui era povero perché lui era povero. Quindi vedete come la nostra vita privata ha una ripercussione sulla vita degli altri, ha una conseguenza e non ce lo possiamo permettere. Non è un lusso che possiamo permetterci perché Dio ci chiederà conto anche di quella che è stata il riverbero della nostra vita sugli altri. Per questo la crescita è importante, per questo le decisioni sono importanti. Quando non vediamo crescita, quando non vediamo frutto, ce lo dobbiamo chiedere il motivo per cui non vediamo il frutto, dobbiamo andare a capire cosa sta succedendo. Sono passati tre anni, sono passati come dire, è passato un tempo ragionevole che attraverso il quale o nel quale bisogna andare a vedere qualcosa, non possiamo continuare in questo modo. Quello che Dio fa nei confronti di questo fico è quello di accordargli ancora del tempo. Gli dice il fattore che era lì che lavorava il campo che ama quella pianta, che ama vedere i risultati, fa una proposta e forse questa è la proposta che Dio sta facendo a te stamattina e a me. E la proposta è questa, ti do ancora un anno, ti do ancora una possibilità, do ancora tempo al tuo tempo, aggiungo anni alla tua vita perché tu possa però portare frutto, perché tu possa però in qualche modo darti una mossa e lavorare e fare in modo che tutto questo dia frutto. Dio accorda ancora un anno ed è generoso in questo, perché ci concede, non ama, Dio non ama la nostra rovina. Sapete, ci sono quelli che hanno l'idea di Dio di uno che ammazza tutti, che giudica, che distrugge appena, Dio non gode della rovina degli uomini, ma desidera la loro conversione, desidera entrare in questo rapporto. Quindi oggi, per dire, oggi è un'opportunità, Dio aggiunge un altro anno alla nostra vita, fino a come dire, ci fa questo dono, a questo fico improduttivo, da ancora un anno. La nostra storia viene allungata, le nostre possibilità vengono moltiplicate, per cui c'è ancora speranza. Quindi, se tu fino ad oggi non hai visto frutto, se anzi hai visto che c'è stato come dire un regresso, piuttosto che un progresso, è il momento di fare una scelta. E questo lo dico non soltanto, qui Luca sta parlando appunto figurativamente ad Israele, quindi sta parlando delle persone che conoscono, che dovrebbero conoscere, ma lo sta dicendo a tutti, perché Luca apre a tutti il suo Vangelo. Questo linguaggio è un linguaggio che si adatta a tutti i cristiani, credenti, o non credenti. C'è ancora un anno che Dio aggiunge, un anno di grazia, un anno di amore, un anno di possibilità, un anno in cui è possibile che accada tutto quello che non è accaduto fino ad oggi. E quindi devi e dobbiamo cogliere questa occasione per fare una decisione. Dio mostra ancora nei nostri confronti di una grande pazienza e una grande misericordia. Quindi non dobbiamo sprecare il nostro tempo in situazioni sterili. Pietro dice che non dobbiamo essere sterili e infruttuosi nella conoscenza di Dio. Quindi significa che dobbiamo come questo fattore che si preoccupava di questa vigna dobbiamo darci da fare dobbiamo pianificare dobbiamo in qualche modo avere una strategia per poter uscire fuori dalla sterilità dall'improduttività è importante fratelli sorelle amici è importante che non rimaniamo stagnanti alle volte io non sono non ho il pollice verde ma ho visto che per ho visto fare che per far crescere una pianta bisogna trapiantarla bisogna cambiare il vaso un vaso più grande mettere la teccia ci sono delle delle azioni che bisogna fare per spostare la pianta alle volte prendetela questa come un'altra parabola spostare una pianta da una parte all'altra anche della casa un'esposizione diversa perché in quel lato della casa è più freddo o più caldo e questo non giova alla salute e al benessere e alla crescita di una pianta bisogna spostarla semplicemente bisogna fare in modo che trovi la sua collocazione giusta e trovi il modo di crescere tu ed io dobbiamo trovare il posto giusto il modo giusto per poter vedere una crescita in questa parabola Dio aggiunge un anno di grazia quindi ed è la sua missione aggiungere anni dare opportunità come è lui che continua a cercare continua a chiamare continua ad avvicinare i cuori delle persone al suo cuore è l'anno della pazienza è l'anno della misericordia è come dire Dio ha allungato i tempi per una salvezza e ha allontanato ancora il giudizio perché l'idea del proprietario della vigna era quello di dire guarda è improduttivo ruba addirittura le sostanze che devono andare tra gli altri li prende lui e non porta nessun frutto facciamo una cosa tagliamolo tagliamolo no? noi siamo propensi alle volte a fare in questo modo di interrompere di questo ma è anche un criterio se volete in economia in in un'azienda no? in un lavoro in un'attività economica quando ci sono cose che non vanno si taglia subito è inutile andare avanti e prolungare e fare aumentare ancora le perdite si taglia si cambia si fanno altre cose allora ecco che in questo anno che Dio ci concede che Dio vuole concedere a questo fico è un anno importante strategico questo è un tempo strategico vi ricordate di Abramo e Sara no? quando ricevettero la parola la chiamata da parte del Signore cosa fecero? anzi cosa non fecero? non persero tempo non indugiarono non si messero lì a fare che so una riflessione che prendeva partirono capirono che quella era la loro strada era la loro via inutile perdere inutile perdere anche un altro anno ancora già erano passati tre anni nel caso del fico quanti anni ancora devono passare perché tu possa vedere il frutto anzi non il frutto il tuo frutto è il frutto del tormento di Dio perché è Dio che vuole vedere il frutto dentro di noi è Dio che vuole raccogliere questo frutto per la sua gloria per la sua per la sua gioia e noi siamo il frutto dice Isaia del tormento della sua anima quanto tempo deve passare ancora perché Dio possa gustare questo frutto dentro di te è quello che abbiamo detto prima qual è il frutto che si aspetta la nostra dedizione a Lui la nostra adorazione il nostro servizio la nostra coerenza la nostra serietà nell'essere cristiani in questo mondo che diciamo ci osserva anche se non ci dice nulla apparentemente però ci osserva da lontano ci osserva grazie a tutti